Vorrei entrare direttamente nel vivo del mio messaggio. Questo messaggio l'ho ricevuto mentre stavo leggendo il libro di Luca, una mattina stavo leggendo e leggo il passaggio, vado avanti e lo spirito mi fa sempre ritornare indietro. La storia di cui vorrei parlarvi questa sera è la storia di un uomo che ha avuto la sua vita che è stata sconvolta dall'incontro con Gesù Cristo. Questo uomo lo troviamo nel libro di Luca. Luca Otto è l'indemoniato di Gereza. Posso che la pronuncia va bene. E' l'indemoniato di Gereza. Questo uomo, quando tanti anni ho sempre letto questo passaggio nella Bibbia, senza captare bene quello che Dio ha fatto, l'insegnamento che Dio ci ha dato attraverso l'incontro con questo uomo. Prendiamo Luca Otto, versetto 26, 27. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli viene incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Allora, la parola che mi ha veramente toccato è quando egli fu sceso a terra, gli viene incontro un uomo. Questo uomo abitava in questo paese, forse dalla nascita, il suo paese. Durante tutto questo tempo, questo uomo non ha mai ricevuto guarigione. Io mi sono chiesto, perché ha subito questo in tutto questo tempo? E lo Spirito mi dice, come si è stato preparato? Questa situazione è stata preparata in attesa dell'incontro con Cristo. Questo uomo ha incontrato Gesù. E sappiamo, tutti noi conosciamo la storia, no? È stato liberato. L'incontro con il Padre, con Gesù Cristo, l'ha reso libero. Infatti, il mio primo punto del mio messaggio si chiama incontro, l'incontro con Gesù Cristo. Ognuno di noi qua, questa sera, un giorno abbiamo fatto questo incontro, no? Questo meraviglioso incontro con Cristo. Io mi ricordo il mio... Ero in una situazione veramente disperata. Nel quartiere ero il ragazzo poco da frequentare. Non ero addatto a frequentare gli amici, no? Perché i parenti dei altri amici mi vedevano come un ragazzo pericoloso. E il giorno che Cristo è entrato nella mia vita, le cose sono cambiate. Loro che non mi volevano incontrare, sono loro che hanno iniziato a cercarmi, perché in me hanno visto qualcosa di diverso. Quindi, nella vita di questo abbiamo visto, in questo primo punto, l'incontro che ha avuto con Gesù e la guarigione che ha avuto. Quindi andiamo avanti, cercherò di andare veloce. Abbiamo il mio secondo punto nella storia di questo uomo, che è l'istruzione, che è veramente la parte bella di questa storia. Luca 8, versetto 35. La gente uscì a vedere l'accaduto e venuta da Gesù trovò l'uomo da quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente e si impaurì. Dove hanno visto questo uomo? Dove? L'hanno visto seduto dove? Ai piedi di Gesù. Cosa stava facendo lì a piedi di Gesù? Vi ricordate di Marta e Maria? Cosa faceva Maria a piedi di Gesù? L'insegnamento, l'istruzione, l'equipaggiamento. Quindi questo uomo, il primo, ha avuto l'incontro con Cristo e l'ha liberato e è stato guarito. Il secondo punto, si è messo seduto ai piedi di Cristo per ricevere istruzioni. Non è meraviglioso? Non soltanto è stato liberato, ma è stato anche equipaggiato, come diciamo, equipaggiato. E quando stavo leggendo ho voluto sovolare, cioè passare oltre questo passo. Ma Gesù, lo Spirito, ma fermati, io ancora ti ha detto qualcosa in questo passaggio. me lo rimenti, 35? Allora, come hanno visto questo uomo? Vestito e sano di mente. Poi mi sono detto, questo uomo da anni viveva nel cimitero. Sarà spoco, no? Sicuramente pussava. Come mai era seduto ai piedi di Gesù Cristo così vestito? Sicuramente non sarà solo lui ai piedi di Cristo in quel momento, ci saranno altre persone. Quindi, se è seduto, vuol dire che è pulito, no? È stato pulito, è stato lavato, è stato risanato. E mi chiedo, questo uomo non è andato a casa, la sua non ce lo dice. E chi l'ha fatto? Chi l'ha lavato? Chi l'ha curato? E stavo lì, chi? Mi chiedo, mi devi dire come mai questo uomo, da come era, ti ha incontrato? Non soltanto guarito, lo stai nutriendo, ma anche è stato curato. E la parola mi dice, vai in Luca, sopra, Luca, sempre uno versetto, il primo versetto. Se andiamo lì, vedremo che Gesù nel suo ministero, Gesù nel suo ministero, nel Luca 1, era accompagnato di alcune donne. E diceva, c'è anche una donna di un certo spessore che stava messa a quelle donne, no? Che seguivano Gesù con i loro beni. E lo spirito mi dice, hai visto? Il nostro Dio non è un Dio mancante. Non è il Dio che ci viene predicato, Dio povero, ma anche un Dio ricco. Infatti, Luca 8, versetto 2, con lui vieneranno i dodici e alcune donne che erano state guarite dai spiriti maligni e da malattie. Maria detta Magdalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, l'administratore di Erode. Wow! Vi immaginate che tipo di donna è? Quale ricchezza accompagnava Gesù? E lo studio mi ha detto, quelle riccheze servivano anche per curare quelli che Gesù Cristo risanava. Non soltanto lui viene incontro a te, se tu l'accetti, lui ti risana, ma anche le sue riccheze sono per te. E sono rimasto e ho detto, wow, il nostro Dio è grande, è un Dio meraviglioso. E l'ultimo punto è Luca 8, 38-39, quello che Gesù ha fatto con questo uomo. L'uomo da quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma egli lo rimandò dicendo, torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Infatti il mio ultimo punto è invio. Questo uomo è stato liberato con l'incontro con Cristo, è stato equipaggiato, guarito, risanato. Ma cosa ha voluto fare lui lì? Ha voluto rimanere nella zona di comfort. Ha voluto rimanere in quel comfort, in quell'atmosfera che è bello, no? Ma Gesù gli ha detto, no, 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 no. Tu mi hai incontrato, ti ho liberato, ti ho dato, adesso tocca a te andare. Lui ha voluto seguire Gesù, no? Tu sei stato liberato per andare a proclamare? Tu sei stato liberato per andare a proclamare le grandi cose che ho fatto per te. Quindi se vediamo nella storia di questo uomo, vedete i tre punti? Ci identificheremo anche noi in questi tre punti. L'incontro. L'equipaggiamento e l'invio. E studiando, leggendo, lo spirito mi ha dato anche, mi ha fatto anche ridere, no? Mi dice, allora, conoscendo Gesù, no? Così buono, così... Voi avete pensato che avrebbe mandato via quell'uomo così, senza così? Mi sono messo a ridere da solo, no? Ho detto, no, no, non è possibile. Io sono sicuro che Gesù Cristo gli aveva detto, oh, Pietro, Giuda, metti qualcosa nella tasca di quell'uomo. Menti qualcosa, mandiamola a predicare, mandiamola a aprire la sua chiesa, mandiamola a predicare il Vangelo, perché noi siamo qui per questo. E come ve lo dicevo, il mio messaggio sarà breve, ma è breve il messaggio, ma vorrei che ci soffermiamo su questi punti, che sono punti veramente importanti per la nostra vita cristiana. Infatti il titolo del mio messaggio è, a che punto sei? A che punto sei? Non so se tu mi stai guardando in diretta, dove sei, a che punto sei? Sei al punto dell'incontro? Hai avuto l'incontro e se ti sei fermato ti manca l'equipaggiamento? Sei stato equipaggiato e vuoi rimanere lì? A che punto sei? Se sei al primo punto, non perdere più tempo. Lui sta lì, ti sta aspettando. Vieni incontro a lui, dai la tua vita. Come ha fatto con questo uomo? Questo indemoniato, questo uomo che era proprio quello che non è da frequentare nella sua città. E io so, in un modo o un altro, qualcosa dentro di te ha bisogno di questo incontro. E se non hai dato la tua vita a Cristo, non lo conosci, vai incontro a lui. L'hai incontrato? E hai bisogno di conoscerlo meglio. Tra l'altro, stavo facendo uno studio l'altra volta, e questo diceva, l'insegnante diceva, come fai ad amare qualcuno di più se non lo conosci in profondità? Se non conosci la persona con cui stai, come fai ad amare? Se al secondo punto vieni, siediti a piedi della croce, siediti a piedi di Cristo, ricevi l'insegnamento, ricevi quello di cui hai bisogno. Se non hai dove ricevere questo insegnamento, mia moglie l'ha detto prima, noi siamo equipaggiati, il posto giusto, eccolo qua, viene equipaggiato, a essere equipaggiato. L'invio, sei stato liberato, sei stato equipaggiato, non rimanere obeso spiritualmente. È il tempo di fare qualcosa, è il tempo di mettere i piedi fuori, altrimenti il sacrificio, il lavoro che Cristo ha fatto non gioverà a niente. Io nella mia vita ho visto grandi uomini di Dio, persone che hanno servito Cristo per tutta la loro vita, e arriva un certo momento, o si allontanano dalla chiesa, e mentre stavo facendo questo, lo Spirito mi diceva, sai perché? Ho detto di no, perché a un certo punto hanno perso quel punto lì. o le circostanze della vita che hanno toccato, o la struttura religiosa, come lo sappiamo, non gli ha permesso di continuare, perché quando tu non entri in quella fase di portare quella libertà che hai ricevuto, non hai la carica di portarlo fuori, e quindi hai bisogno, diventi stagnante. Quindi, vai fuori, hanno bisogno di te. Infatti, qual è lo scopo nostro come figli di Dio salvati? è proprio quello. È proprio quello. Combattere per il regno di Dio. C'è chi prima il regno suo e tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Io ho finito il mio messaggio per farvi vedere nella storia di questo uomo come Cristo anche prima della sua morte aveva già dato le basi, gli insegnamenti che servono o i passi da seguire o il motivo della Chiesa. Sto dando degli esempi, ma comunque ognuno di noi ci ritroverà in questi punti che ho dato questa sera. Quindi il mio messaggio è vorrei pregare perché è un messaggio riflessivo che deve mettere ognuno davanti allo specchio per capire qual è la nostra posizione a che punto siamo, a che punto sei. Se il punto dell'incontro viene a Cristo sei al punto di conoscerlo dai piedi della croce. Sei stato liberato, guarito, equipaggiato, adesso vai in missione. Grazie. Assiamoci in piedi. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Regna qui dentro me hai la mia attenzione Gesù Regna qui dentro me hai la mia attenzione Gesù Regna qui dentro me bravo la tua presenza questa sera tramite la storia di questo uomo tu puoi anche identificare a che punto sei e chiedere allo Spirito Santo questa sera di rivelarti di mostrarti il prossimo passo da fare chiedi questa sera allo Spirito Santo Alleluia questo messaggio l'ho ricevuto proprio per me personalmente ve lo confesso e anche a te io so che ti stai facendo molte domande non rimanere come sei non lo conosci viene a lui e ti libera libera hai conosciuto non rimanere a quel punto dove sei nutriti della sua parola fatti riempire della sua potenza perché la parola di Dio ci dice che Gesù guariva con cosa con le parole e vai alla sua croce impara da lui come questo uomo che è diventato il meso che Dio ha disposto per toccare altri parenti altri amici della sua città le persone della sua città lui è diventato quel meso in quella città quindi tu anche sei disposto chiedi allo Spirito Santo di mandarti di aiutarti di guidarti che tu possa essere la luce nella tua famiglia nel tuo posto di lavoro dovunque dove tu metti i piedi alleluia grazie Spirito Santo grazie Spirito Santo fate grazie grazie per questa sera ti ringraziamo di ogni cosa che tu hai fatto ti ringraziamo per quello che tu fai ti ringraziamo per quello che tu farai attraverso le nostre vite Spirito Santo shakarabas grazie Padre grazie di toccare il cuore di ognuno di noi Signore grazie 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 in nome di Gesù Cristo grazie a tutti Grazie.